Bene, buongiorno, naturalmente anch'io iniziando porto la solidarietà e la vicinanza a Filippo e al sindaco Bottoni per quanto gli sta capitando. Anch'io come molti che mi hanno preceduto sono stato un frequentatore del Sunsplash ancora prima che fosse ad Osoppo, in realtà forse ho partecipato a meno dibattiti, ho sentito più concerti, però in qualche maniera ho una mia piccola storia di presenza all'interno del Sunsplash e anche dell'aver vissuto, essendo un ex consigliere regionale, quelle che erano state le varie difficoltà che negli anni comunque ha attraversato il Sunsplash per poter rimanere in Friuli e questo anche lo dico per testimoniare di più ancora quanto è già stato detto, che nel caso ci fosse un arrivederci, nel caso si dovesse pensare ad altre sedi, effettivamente è sempre stato fatto tutto il possibile, il maggior sforzo invece per rimanere qua, per rimanere in Friuli e per rimanere a Osoppo. Io ho vissuto appunto per anni tutte le cose che potevano capitare sono capitate e tutti abbiamo cercato in qualche maniera di affrontarle proprio per poter rimanere in Friuli ed anche ad Osoppo. Io credo che sia, nella sua negatività, però sia anche un momento, come hanno detto tanti, di riflettere e di riprendere quella che era stata una battaglia che avevamo iniziato all'epoca dell'approvazione della Fini Giovanardi perché il vero vulnus di tutta questa vicenda è che in Italia esistono delle normative, delle leggi che non sono, come dire, sono dal mio punto di vista, quella volta sono state sollevate anche delle obiezioni di costituzionalità per vari punti di questa legge, ma sono soprattutto orientate alla punizione. Noi abbiamo un processo, come dire, in accumulo di politiche di omogeneizzazione e di punizione per chi non si mette alla pari degli altri. E in questa regione in particolare, adesso c'è la Fini Giovanardi e io credo che dovremmo riprendere una battaglia contro quella legge, citava già i dati sulle presenze, sulle carceri, ma è anche un'impostazione politica che noi dobbiamo combattere, che è quello appunto di omogeneizzare e punire chi non lo fa. Ma credo anche che ci sia, come dire, un terreno, come veniva detto prima, di discussione, come dire, tutta nostra qua. Portare solidarietà al Sun Splash non significa appunto venire qua e dirlo, ma significa anche praticarlo. E per cui, per quanto riguarda il mio partito, naturalmente, per quanto riguarda me personalmente, saremo vicini a voi in tutte le lotte, in tutte le occasioni che organizzerete nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, anche perché appunto ogni volta che si colpisce una libertà, come dire, si scalfiscono anche le altre. Ad oggi nella nostra regione è complicato dire cose che erano banali fino a un anno fa. Se noi parliamo di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, nella nostra regione questo non esiste più. Se noi parliamo di consapevolezza rispetto a quello che la vita ti offre, anche rispetto all'uso delle droghe, questa è una cosa che non si può più dire, perché mandiamo via la fabbrica più grande di consapevolezza rispetto a questo tema che c'è nella nostra regione. Quindi noi tante volte, anche per agganciarci e creare consenso, parliamo dei risvolti economici del Sun Splash, che ci sono e forse anche per questo c'è una certa trasversalità, perché uno pensa anche ai soldi e alle persone che arrivano in regione. Ma io credo che da oggi partiamo anche con una grande e necessaria campagna culturale per i diritti e per i diritti di uguaglianza, soprattutto sul nostro territorio, che guardate non è una stupidata, non è un'esagerazione dire che sono da oggi ancora di più messi a rischio.